Nell'atmosfera surreale dello stadio semi vuoto e poco rumoroso arriva una vittoria netta in una partita giocata fino all'ultima palla. E' terminata 3-1 l'Aquila al Balonga, la gara alla pari per il quinto posto in classifica. Gli ospiti hanno forse sottovalutato la compagine rosso-blu che ha mostrato determinazione, carattere e gioco. Fin dai primi minuti i padroni di casa hanno puntato alle ripartenze, fino a creare diverse occasioni da gol. Al 35esimo, intercettato un cross dal lato, gira al volo Minincleri ma trova il portiere pronto alla difesa. Passano pochi minuti al 39esimo, arriva il primo gol dell'Aquila, siglato proprio da Minincleri. Il capitano batte una punizione che trafigge la barriera e centra l'angolo basso a sinistra del portiere. L'Albalonga tenta di contenere gli aquilani che accelerano il passo, ma al rientro dagli spogliatoi passano solo 3 minuti e arriva il secondo gol. Questa volta è di Pupeschi. Su un calcio d'angolo di Valenti che supera tutta l'area, trova un varco il 2 rosso-blu e trafigge la rete di destro. L'Albalonga reagisce e cerca di spostare il gioco nell'area dell'Aquila. Al decimo infatti, Cruz di testa, è pericoloso davanti a Salvati che riesce a parare. Ancora al tredicesimo la terra calcia, ma la palla oltrepassa l'incrocio dei pali. Al ventiduesimo è però Valenti che segna la terza rete dell'Aquila. Un gol di pregevole fattura, realizzato con un sinistro a giro, che ipnotizza lo stadio con la sua traiettoria fino all'ingresso in rete. Il terzo gol passa la sveglia all'Albalonga, che si fa più pericolosa nell'area rosso-blu fino a trovare il gol della bandiera. La terra calcia da fuori aria, perfora la difesa, ma prende la traversa. Pronto sul rimpallo interviene Gurma, che di testa segna al trentesimo il gol dell'Albalonga. L'ultima occasione da gol per gli ospiti arriva il quarantatresimo, con Magliocchetti servito da Albanese, ma Salvati salva la porta. Abbiamo completato la partita e probabilmente è il nostro manto oggi con solo tre over in campo, anche un po' per necessità. Questo è stato bellissimo ancora per valorizzare il lavoro fatto dalla Juniors di Renato Greco, che ha vinto il campionato meritatamente ieri. Noi abbiamo provato a dare un po' di tranquillità a questo gruppo, cercare di farli esprimere quelli che sono rimasti secondo le loro potenzialità. Se magari contro una squadra così forte vai sotto, puoi rischiare di perderla, però la prestazione sarebbe stata lo stesso. Questo è il nostro obiettivo partita per partita, poi alla fine faremo conti, vediamo se siamo arrivati. Oggi abbiamo ragguantato il quinto posto, per noi è una bellissima soddisfazione. C'eravamo degli obiettivi settimanali, li abbiamo raggiunti, ora ce ne daremo degli altri la prossima. Valenti ha già fatto una partita veramente straordinaria, ha vinto una scommessa, peraltro, ma dopo uno schiaffo. Era una scommessa, lo vedevo un po' teso, un po' nervoso, lo volevo pungolare così. Io ho detto che se faceva gol poteva tranquillamente schiaffeggiarmi, visto il gol che ha fatto poteva darmi anche una batilata, sinceramente, perché è una bellezza straordinaria. Però ribadisco il fatto che il merito di questi ragazzi è l'essersi applicati, non essersi abbattuti davanti a una difficoltà che avrebbe ucciso qualunque gruppo di lavoro, o essersi compattati anche con i ragazzi dell'Unione Ors di Gran Ballone? Noi sapevamo comunque che oggi non era una partita semplice e anche le motivazioni per il momento che stanno vivendo da parte dei ragazzi, che sicuramente non semplice, li ha portati a fare una partita di grande carattere e di grande determinazione. Non siamo stati fortunati negli episodi dei gol, quindi la partita comunque è stata indirizzata, purtroppo a nostro sfavore. Però siamo stati bravi comunque sia a non mollare, a continuare a giocare a calcio e a riprenderla, provare a riaprirla.